Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale! Oggi parliamo di musica perché è giunta l'ora di fare un nuovo episodio di Cherry's Music Playlist e di playlist parleremo oggi perché è un periodo in cui non sono granché infissa con qualcosa di specifico ma con delle playlist. Per ascoltare musica tendenzialmente utilizzo Spotify, mi piace molto perché mi piacciono molto le playlist che ci sono, si trova di tutto e se non sapete molto di un artista ma volete magari approfondire un pochino, riuscite a trovare le meravigliose playlist This Is, tipo questo è, e cercate l'artista che volete. Io non sono sponsorizzata da Spotify, mi pago il mio bell'abbonamento al mese per avere Spotify Premium, quindi no. Menzione d'onore perché è finalmente uscito Lucio Battisti disponibile in streaming su tutte le piattaforme dopo una lotta durata tantissimi anni perché se non sbaglio la moglie deteneva i diritti e non voleva che ci fosse in streaming tutto il catalogo Lucio Battisti adesso non so bene come è andata a finire in quel senso lì a livello proprio di diritti legali e robe del genere il fatto sta che adesso abbiamo finalmente Lucio Battisti. Io prima lo ascoltavo su YouTube, mentre adesso c'è una playlist che si chiama, se non sbaglio, This Is Lucio Battisti che ha battuto ogni record nella prima settimana di streaming online e io sono super felice perché io i miei bei momenti malinconici li ho e quindi di solito mi butto su Lucio Battisti ma sempre nell'ottica di imparare cose nuove, farsi un'infarinatura, ascoltare un pochino cose che si è sempre voluto ascoltare però non si sa mai da dove iniziare. Le magnifiche playlist di Spotify This Is mi hanno aiutato tantissimo in questo periodo ad ascoltare un pochino di generi che non ho mai ascoltato, sia di generi che di artisti in realtà, quindi oggi nessuna o quasi canzone nello specifico ma playlist che dovete assolutamente segnarvi. Una playlist che mi ha accompagnato tantissimo quest'estate mentre ero al mare, mentre facevo colazione, mentre preparavamo la cena, oppure mentre ci si faceva la doccia dopo essere saliti dalla spiaggia con il tramonto in distanza, il mare, dal terrazzo era This Is Nina Simone. Ebbene sì ragazzi andiamo sul classico, Nina Simone non si può non conoscere, io devo dire che sapevo molto poco infatti ascoltando la playlist poi c'erano dei momenti in cui dicevo ah ma è sua questa, ah ma è sua questa e vi giuro che vi trasporta in un altro universo, secondo me la playlist perfetta per decomprimere o quando fate la doccia e dopo una giornata stancante, alla mattina mentre preparate colazione cercate di risvegliarvi, al sabato o alla domenica mentre siete a casa in ricarico di energie, ragazzi ascoltatela perché è veramente bellissima. Un'altra playlist su Spotify che mi è piaciuta molto è Is It New Wave? Proprio così, col punto di domanda e c'è proprio un'infarinatura di New Wave, genere che mi intrippa sempre ma non so mai da dove iniziare, devo dire la verità e quindi queste playlist mi aiutano tanto a capire se è un genere che mi piace, che non mi piace, quali sono gli artisti che compongono la New Wave, quali sono quelli che mi piacciono di più. Per dirvi, io adesso faccio una confessione un po' scioccante probabilmente, però a me gli Smiths non piacciono. Non piacciono, non ce la faccio, non mi piace praticamente nulla, ma è Morrissey con il suo modo di cantare eccetera, non mi piace, non ci posso fare niente, con tutto che ovviamente hanno fatto la storia della musica eccetera, proprio a livello di gusto personale. Forse l'unica canzone che mi piace è How Soon Is Now per ovvi motivi. Anyway, ci sono tantissimi gruppi tipo Joy Division, gli Smiths appunto, i Talking Heads, Bauhaus eccetera eccetera e devo dire che se anche lì voi volete farvi un attimo l'infarinatura è ottima e molto comoda. menzione d'onore alla playlist New Metal Generation che mi ha accompagnato tantissimo nelle mie sessioni di gymnastic in palestra, sollevamento pesi vi giuro, cioè mi ha dato una carica pazzesca e anche lì ho scoperto in tempi piuttosto brevi quindi il genere New Metal che non mi sono mai, cioè più di tanto ma più che altro è che non capivo in che genere incasellare alcuni artisti, alcuni brani in uno stile ecco diciamo che mi piaceva però non capivo perché non era né rock né troppo metal e ho scoperto che è New Metal, tipo i primissimi incubus sono considerati New Metal, insieme poi ai Korn, System of a Down, Slipknot eccetera eccetera anche qui devo cercare un attimino di capire cosa mi piace perché ad esempio io i Korn ammetto di non averli mai ascoltati quando ero ragazzina, ho ascoltato qualcosa ultimamente che devo dire che non mi è dispiaciuto però alla lunga un po' mi stancava quindi anche lì sto cercando un attimino di capire cosa mi piace e cosa non mi piace e la playlist comunque mi aiuta tantissimo l'unico neo è che non è immensa, ci saranno pochi, cioè non ci sono tantissimi brani quindi finisce in fretta e vabbè altra playlist da segnare è This is PJ Harvey, anche lei non l'ho mai ascoltata però l'ho sempre sentita nominare finché un giorno ho detto senti fammi ascoltare chi è e sono rimasta rapita l'ho ascoltata tanto 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 spesso ultimamente magari nel pomeriggio mentre montavo i video, mentre leggevo le main, mentre lavoravo, mentre mi scrivevo in agenda i contenuti da creare e tutto quanto, devo dire che mi aiuta perché mi mette in un mood molto tranquillo ma produttivo non è musica addormentante, ho cose simili quindi devo dire nuova fan di PJ Harvey e non vedo l'ora di approfondire sempre di più lei perché devo dire che mi ispira tantissimo e poco prima di fare questo video mi sono proprio immersa in Nick Cave con This is Nick Cave che vi giuro cioè ragazzi è uno stile incredibile, è una voce bella deep e molto sexy, molto sognante anche a tratti e vi dico la verità ogni volta che parte Where the Wild Roses Grow che è un duetto, cioè comunque una canzone featuring con Kylie Minogue cioè i brividoni ragazzi, i brividoni, vi prego sapete che non posso più mettere musica ma andate a ascoltarvi questa canzone e se non conoscete Nick Cave, un po' come non lo conoscevo io, lo ammetto già vi cattura e vi fa capire un attimino di chi e di cosa stiamo parlando detto ciò ragazzi, io volevo farvi una domanda voi state seguendo X Factor? Perché io ne ho un po' parlato su stories e devo dire che, allora, Malika Ayan non l'ho mai seguita più di tanto perlomeno provo che abbia una voce splendida ma non mi piacciono certi gorgheggi che fa che sono però suoi caratteristici, devo dire, cioè il suo stile, mi piace la voce però a me non piacciono tanto, gusto personale devo dire che come giudice mi piace un botto perché è bella diretta, bella severa, non si fa prendere in giro e spesso e volentieri penso che dica le cose che penso io nel modo in cui le dirai io se fossi giudice di X Factor quindi tutte le mie simpatie a Malika amo ovviamente Samuel dei Subsonica con tutto che nella puntata della settimana scorsa ha eliminato un gruppo quelli con la camicia un po' così e tutti che avevano le lenti azzurre un gruppo che secondo me spaccava, infatti si è preso i bù e gli insulti di tutti non ho capito la scelta sinceramente però al di là di questo, come vi sembra questa stagione di X Factor? perché io la trovo molto sottotono non lo so, durante le audition di solito negli anni scorsi era tutto molto più ubrioso e c'erano dei personaggi che arrivavano lì e che mi ricordavo di più nel senso anche bravi, delle voci immemorabili, delle cose memorabili per cui dicevi, ah sì, hai bootcamp, lui deve passare eccetera io quest'anno invece non ho memorizzato nessuno mi sembravano tutti bravi però nella media quindi secondo me finora un X Factor un po' sottotono e sinceramente ho visto anche che a livello di ascolti non stanno andando bene quindi non lo so, ditemi voi se state seguendo il programma e che cosa ne pensate ragazzi, questo quindi è il video di oggi io spero tantissimo che vi sia piaciuto fatemi sapere cosa state ascoltando voi che cosa avete scoperto se conoscete già qualcosa che vi ho suggerito ma secondo me sì quindi fatemi sapere un po' nei commenti perché io sapete che mi scrivo bene tutto e grazie a voi ho scoperto anche grandi band che io ora adoro ragazzi se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like iscrivetevi al canale ed azionate la campanellina per non perdere le prossime notifiche entrerete così a far parte della meravigliosa Pandemonium Notification Squad e vi arriverà una notifica ogni volta che carico nuovi video vi mando un bacio ragazzi ci vediamo alla prossima ciao